Non nasconde l'emozione la madre del biologo dilaniato da un'autobomba il 9 aprile 2018 e l'imbadi nel vedere a processo i 5 imputati coinvolti nell'omicidio di suo figlio. Ha temuto però che potesse esserci una nuova battuta d'arresto del processo dopo il rinvio della scorsa udienza. Non poteva essere che così, perché la verità affiora anche solo respirando. Io ho avuto paura fino all'ultimo, però ho posto fiducia, la mia fiducia. Ancora attendo molto, spero che questa verità riaffiori in ogni senso, in tutti i campi. E poi che abbiano una giusta condanna, che la giustizia vada avanti e che sia veramente quella che io desidero, come Matteo e più di Matteo. Si temeva oggi un rinvio, ci può spiegare in che termini? Ma io onestamente questo timore non ce l'avevo, perché sono convinto che la professionalità, la rettitudine della magistratura abbia giocato il suo ruolo ed è riuscita a sconfiggere qualunque tentativo di trabocchetti o di marchigegni che le parti interessate cercavano di frapporre per impedire il compierso della giustizia. Ci dica in che cosa consistava questo cavillo di oggi? Nella nomina di un avvocato che poi non è stato nominato, insomma in un trucchetto che hanno cercato di introdurre per provocare il rinvio. Ma ovviamente grazie alla perspicacia, alla professionalità, alla preparazione sia del pubblico ministero che del giudice questo tentativo è stato abbondantemente sventato e quindi l'udienza ha seguito il soccorso ed ha portato appunto a questo decreto che dispone il giudizio per cui il 17 settembre inizierà il processo presso la corte di Assise di Catanzaro.